Fleshtop Eric Bondo, via il posteriore Felbindere, tutti e quattro a Freyagar e a Fonte, Furiabuia favorito nei confronti di Freetime Jepson e Fonte. 150 metri al punto dello stacco e l'Amento si va a formare. Non è rete per adesso Fede Italia, che tendenzialmente sembra rinunciare al lancio, così come Fragola di No. Non è del tutto rete neanche Femmonville ST. Si parte con Furiabuia Font che lancia più veloce di Freetime Jepson che però prova a rientrare all'imbocco della prima curva. Furiabuia su Freetime, insiste Furiabuia, Freetime tiene la figura di dentro, quell'altro prova a passare di forza. I 200 in 13 secco con Furiabuia che non ha ancora confezionato del tutto il sorpasso. In terza posizione c'è Fonte e alla fine vediamo quel che succede con Freetime e Furiabuia sempre alle prese. I 400 in 28 secco e Freetime rientra. Ha tenuto sempre la figura di dentro e Furiabuia rimane allo scoperto. Poi Freyagar che si accoda sull'errore di Fonte. I 600 in 41 e mezzo, 28 e mezzo anche dopo lo strappo. Freyagar serra sotto. In quarta posizione c'è Femmonville ST. Furiabuia ormai è rimasto di fuori, continua ad andare su Freetime Jepson ma là è rimasto. Dopo il 28 iniziale c'è un 29-2, 57-2 a metà gara. Freetime Jepson ha vinto la prima parte di battaglia con Furiabuia che adesso retrocederà allo scoperto. Quando siamo per arrivare al chilometro, il chilometro in 1-11-8. Freetime che allunga e prende due secche di margine a Freyagar e il resto della truppa è più indietro. In bocco dell'ultima cura con Freetime Jepson che sta facendo velocità a 400 dal traguardo. Il terzo parziale se n'è andato in 29-3. Freetime deve vivere sul vantaggio, deve correre ancora 350 metri. È inseguito da Freyagar lungo la corda. Poi in mezzo alla pista cerca di migliorare Fragola di No con Femmonville ST. L'ingresso della dritta d'arrivo per Freetime Jepson che l'affronta con 4-5 lunghezza. C'è un 28, un 29-2, un 29-3 e nel finale Freetime Jepson viene a vincere netta. Problemi a sgambare ma non in corsa. Alessandro li sa migliorare e questo fa anche una prestazione. Può arrivare in 31 un po' sulle uova. Al secondo corre bene Femmonville ST. Al terzo dovrebbe esserci Fragola di No. 1-13-3, 1-57 il totale. Freetime Jepson, Alessandro Gocciadoro anche allenatore. I colori della Chelsea, una prima curva a tutta tenendo i piedini a furia buia font. Quindi la meccanica è diventata perfetta. Un anno e mezzo dopo la sgambatura, tutto metodo di Alessandro. I colori Chelsea, 1-13-3, 2 su 2. Per questo figlio di FaceTime Bourbon e Titti Jepson. Grazie a tutti.